bello a tutti raga eccomi qua per fare il resoconto della Geesweek 2015. Allora, iniziato vorrei dire una cosa, Gabriel non è più nel canale, diventa il mio ex socio, siamo rimasti in buoni rapporti tra virgolette e lui ha deciso di non... non era più attivo ragazzi, io visto l'ultimo video che avevo fatto l'ultimo video che avevo fatto l'ultimo video che avevo fatto l'ultimo video, non ho fatto i 26 io, il canale lo sto portando avanti solo io, perché lui è molto preso per la scuola, per la famiglia eccetera eccetera, lo capisco e allora non giustisco solo il canale come sempre fatto, ho cambiato il nome, mi chiamo Andrea de Gamers, farò le mandatte nuove e tutto quanto. Cosa volevo dirvi, dopo questa notizia, non è niente di chiare ragazzi, tutto a posto, io vedo avanti, spero che voi continuate a seguirmi e a crescere con me, questa è sempre la grande famiglia, siete accolti tutti quanti, ci mancherebbe altro. Volevo dirvi ieri che ci siamo trovati io e Miki, abbiamo fatto tante foto, abbiamo partecipato a degli eventi, abbiamo provato dei giochi, abbiamo provato The Crew, l'espansione, bello, ho provato Trackmania, bello mi piace, poi ho provato, abbiamo provato Sero Brincolico della Wii U, bellissimo, infatti ho prenotato meno da che esca, poi poi cosa che abbiamo prenotato, abbiamo provato Tomb Raider, Tomb Raider ragazzi spacca, fatto veramente bellissimo graficamente, la giocabilità bellissima, lei è perfetta, quando entra in acqua esce tutta bagnata, cioè spettacolare, pantone bagnati, bellissimo veramente, bello, 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 consigliatissimo a Chiara One. Poi ho incontrato, ho conosciuto finalmente il mio fratellino Roby, sono contento con la fidanzata e tutto quanto, e poi c'era, venerdì c'era Boss e Gianluca, mi ha fatto quattro chiacchiere qua e di là, e niente, siamo andati allo stand di Halo, per provare, per vedere, non ce l'ha fatto provare, c'è andato le magliette che mi ha fatto vedere, che sono queste qua, ieri non sono riuscito a prendere quella rossa perché, ragazzi era un delirio, ieri è l'ultimo giorno, guardate, bene, sponsorizzata da loro, spettacolare, ho preso due, ho preso un posto, poi ho regalato due staffe del surfing, se ti scrivevi a una, scaricavi un'app, due staffe per fare i surfi, poi ho preso un poster di Deadpool, però vedrete quando farò una cosa della camera, eh, non ho preso nessun gioco perché non c'era niente che mi interessava niente come l'anno scorso, sono andati sopra a vedere tutti gli youtuber, io ho fatto l'autografo quando mi sono fatto fare questa vandovia di Maisusha, perché è fortissimo questo ragazzo, è simpaticissimo, ha la mano, eh, pensavo di trovare i plan inside, i mood delle ride, purtroppo non li ho visti, non ho visto neanche Ciccio Gamer quest'anno, ho visto pochi youtuber che, sicuramente, non ero molto interessato a loro, io pensavo di trovare Ciccio Gamer, Joker, che non ho visto, poi sono andato allo stand di Multipay, ovviamente ho fatto la foto con Antonio Ficci, dopo lo vedrete, Pierpaolo c'era l'altro ieri, non sono andato, e che altro dirvi ragazzi? Sì, carina, più bella l'anno scorso, le offerte più belle l'anno scorso, però in compagnia di Mickey Bonacciati ci siamo divertiti, e che altro dirvi ragazzi? E niente ragazzi, mi raccomando, spero che mi si guardate lo stesso, anche se ho cambiato, anche se ho cambiato, anche se ho cambiato nome, mia madre, anche se ho cambiato nome, spero che mi si guardate lo stesso, che continuate a essere attivi, che ho commentato, mettete like, dislike, tutto quello che volete, e... si chiama, vi ripeto Andrea The Gamers, sto facendo fare una sigla, sto facendo fare un banner, nuovo, e niente, mi spiace per Gabriel, spero che se poi vengano risolti, che la scuola vada bene, che in famiglia vada bene, però rimango solo, io farò fare le magliette, il mio dettore sigliente rimane ancora a Toscano, io saluto adesso Mickey Bonacciati TV, a far fin, Marco Stantotti, Sbox One, saluto Steva, Viccio, Demo, saluto Maximo Mungia, saluto mio fratellino Robi, saluto i miei nipotini, i miei nipotini, i miei nipotini, i fratelli, i miei nipotini, tutti quanti, saluto Emulare, che non ho avuto l'occasione di conoscere, mi dispiace, perché lui ci teneva, anch'io, ma l'altro ieri non sono potuto andare, è stato un po' incasinato, Massimiliano Murgia, Mondo Videogames, poi Samuel Pagani, John Kic 57, Nicola Dima, Montan, Alessio Murino, e tutti i ragazzi che aiutano a mi chiedono sempre se li saluto nei video, vi saluto a tutti quanti ragazzi, ci sono dei miei progetti sul canale, nuovi progetti, una collaborazione con Micky Bono Nacional TV, vi vedrete delle belle, e che altro dirvi ragazzi, spero che continuate a seguirmi, promessa che è stata una bella famiglia, spero di continuare a vedervi attivare sul mio canale, sulla pagina Facebook, sul gruppo di Facebook, eccetera. Adesso chiederemo un altro canale Twitch, chiamano TheGamer, Andrea TheGamer, e che altro a dirvi, niente ragazzi, non prendetela male, perché lui non c'è mai, è stata una cosa decisa da me, è decisa da lui, perché tra connessioni così non ero più presente, io sinceramente, mandare il canale, non era giusto secondo me, e niente ragazzi, noi ci vediamo il prossimo video, ripeto, non ho preso niente perché non c'era niente interessante, avevo già tutti i giochi, e l'importante è divertirsi, siamo divertiti io e Micky, lo saluto bella Micky, e niente, vedete delle belle sul canale, e ci vediamo il prossimo video, che sarò un videoacquisti, questa settimana esce un bordello di roba, e vedete tante belle cose, e io vi saluto, scusate se è un po' così, ma sono ancora un po' travoce, un po' stanco ieri, ho camminato tanto, ho visto tante cose, vedete delle foto sulle pagine e sul gruppo di Facebook, poi magari faccio anche un video qua con tutte le foto che scorrono, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, sempre presenti, un bel commento, sempre risposta, un bel mi piace, un bel dislike, quello che volete, rimanete attivi, spero che questo non cambierà niente, io voglio bene tutti quanti, vi abbraccio, e saluto la Fra Free, il mio nazionale TV, Marco Soltato, Totti Spots One, Demo, Steva, Vicio, e tutti i ragazzi che hanno il canale. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Bella!